In un futuro post-apocalittico c'è un sole che spacca le pietre, ma forse non ci sono molte pietre da spaccare perché l'ultima guerra nucleare ha spazzato via tutto, lasciando solo desolazione, malattie e la piaga più terribile di tutte, l'invasione di bruttissimi ragni di gomma. Ma forse il peggiore dei guai di questo mondo sono le scorribande dei teppisti, che si approfittano dei più deboli sparando in giro a caso, dando fuoco a qualsiasi cosa e tentando di copulare nei più svariati modi possibili. Ma la tizia bionda abbastanza pettinata, forse troppo per essere un film post-apocalittico, non va di farsi violentare da un puzzone balordo, perciò se ne vaga in giro senza meta, fin quando si imbatte in un tizio che è il ritratto della salute proprio. E son due o tre giorni che è lì da solo in una grotta senza che nessuno se lo caghi. Per ammazzare il tempo ammazza serpenti a colpi di pistola. Lei, che si chiama Armonia, all'inizio è molto diffidente con lui, nonostante sia un serelitto. Poi però lo sfama e infatti lui vorrebbe seguirla. Questo ha trovato figa, cure e pasti caldi e chi cazzo se lo smolla più adesso. Lei fa un po' di resistenza perché è una solitaria ed è anche una donna, quindi deve farla di default. Ma poi alla fine cede e porta l'uomo con sé, che oltretutto guarisce a vista d'occhio. Sarà mica Sirio dei Cavalieri dello Zodiaco. A questo punto ci presentano il capo dei cattivi, praticamente Mirko dei Beehive ma più imbruttito e con la skin sadomasochistica. Cattivo che tratta male tutti i suoi sottoposti e l'unica spiegazione che possiamo dare a quella sgommata marrone che ha nei capelli è che un suo superiore aveva finito la carta igienica e lui si era trovato in zona per caso. E nel frattempo i due piccioncini che ancora non sanno di esserlo vengono imprigionati da un predone schizzato che ride come un cretino, ma lei riesce a farlo fuori a sassate. Così sono liberi di andare a farsi un giro in moto nel deserto. Certo che per essere in giro in moto a lei i capelli non le si spettinano più di tanto. E da notare l'imbarazzantissima armatura di cartone in dotazione alla moto. Certo che in sto mondo sono tutti molto amichevoli, cordiali e ospitali proprio. Come il tizio che li accoglie a fucilate e poi cerca di propinagli carne umana spacciandola per carne di cervo o l'Enrico Beruschi del futuro cannibale. E anche durante gli agguati lei è sempre fresca di parrucchiere comunque. E qualcuno mi vorrebbe dire perché indossa le mutande sopra i pantaloni. Poi abbiamo sparatori ed esplosioni. Tante esplosioni. Perché la produzione i picci ce li ha dati e qualcosa di spettacolare e costoso nel film dovevamo pur mettercelo. Bionda sempre pettinata e Bruce Campbell dei poveri rubano una moto ai cattivi. Ma questi se ne accorgono, prendono tutti la loro moto e se ne vanno alla fiera della moto agghindata nel modo più imbarazzante. Ah no, cioè volevo dire iniziano a inseguirli. E fra loro c'è anche il Giuseppe Simone del futuro, ormai sessantenne. Alla fine comunque riusciranno a scamparla anche stavolta. Perché il braccio destro dei cattivi ha paura dei serpenti. E guarda caso di lì stava proprio passando un serpente. Il viaggio di cui non ho afferrato ancora bene lo scopo continua. E i nostri due salveranno un tizio o un cucciolo di cane da altri cani affamati. E questo tizio è un grande. Perché mentre tutti se ne vanno in giro con delle ridicole moto corazzate di cartone, lui invece se ne va a bello transollo con la sua bella bicicletta. Stavolta però la bionda sempre pettinata e il Bruce Campbell dei poveri vengono fatti prigionieri. E che cavolo, era la terza volta che ci provavano. Prima o poi doveva succedere. Verranno quindi portati al cospetto di Mirko dei Beehive, che ovviamente si vorrebbe scopare lei, mentre per lui ha riservato un trattamento speciale. Intende scuoiarlo vivo. Ma sul più bello arriva Mr. Bicicletta armato di lanciafiamme a salvare chi precedentemente aveva salvato lui. E succede un gran casino. Comunque la lotta finale dei tre contro tutti, con il sottofondo di una musichetta che ricorda quelle delle sigle dei telefilm anni 80, che non c'entrano un tubo con il contesto, è qualcosa di fenomenale. I nemici vengono quasi tutti sconfitti, tranne Mirko che riesce a fuggire. La loro base viene data alle fiamme e c'è perfino una citazione non molto velata ai nanetti alieni di Star Wars, che sono alti uguali, hanno la stessa tunica con cappuccio, dello stesso colore e comunicano perfino allo stesso modo. Peccato però che con questo film non c'entrino praticamente nulla. I nostri eroi salgono quindi su sto trabiccolo infernale e fuggono. Ci sarà comunque un breve inseguimento, ma i tre riusciranno a dare fuoco al ponte che li separa dagli inseguitori mettendoglielo in quel posto. Bruce e la bionda si baciano e si penserebbe che adesso andranno a copulare da qualche parte, ma invece come sappiamo Mirko è ancora vivo e inquadrano una sua mano intenta ad arrampicarsi. Così Mr. Bicicletta si spaventa e corre dietro ai suoi nuovi amici, togliendo loro tutta la privacy. Fine! Innanzitutto un saluto e un grazie a DuneTrader che mi ha regalato il DVD. Che cosa posso dire di questo Land of Doom? Tutto sommato è un film abbastanza carino ed è un peccato che non l'abbiano mai doppiato in italiano. Hanno perso tempo ed energie per doppiare una marea infinita di ciofeche e non invece per questo film che è un buon film post apocalittico. Quanto meno originale e molto diverso da tanti altri che ho visto. Il DVD si trova solo con audio inglese o spagnolo e sottotitolo in spagnolo, quindi nonostante le difficoltà linguistiche è assolutamente comprensibile. Perciò se fra di voi ci sono degli appassionati non posso far altro che mettervi il link in descrizione se volete vederlo. Sempre rimanendo in tema post apocalittico, DuneTrader mi ha regalato anche questo, America3000. Purtroppo però a differenza di quell'altro in questo DVD c'è soltanto l'audio inglese o spagnolo, senza sottotitoli di alcun tipo, quindi ho provato a guardarlo ma non ci ho capito una mazza e quindi credo che difficilmente ne farò il riassunto. Detto questo abbiamo finito ma prima di chiudere come sempre un saluto a tutti i miei patreons. I cavalieri d'oro Alessandro Irimia e Luciano Repetto, i cavalieri d'argento Davide Vaiani, Gervis Gerardo Crotti, Giovanni Gallorini, Giuseppe Dovidio, Pietro Alemanno e Nicoro02, un saluto anche ovviamente a tutti i cavalieri di bronzo e ci vediamo al prossimo video. Ciao!